A due settimane dal furto a San Nicolò a Tordino torna a colpire la banda del Bancomat. Un colpo notturno, questa volta non andato a segno. Dopo la spaccata i malviventi hanno sradicato e trascinato il Bancomat legato a un furgone per oltre tre chilometri per la via principale del paese, alle spalle del centro commerciale dove poi l'hanno abbandonato. Sul manto stradale gli avanzi della spaccata da parte della banda, numerosi pezzi di lamiera e frammenti metallici sparsi sulla via e segni evidenti sull'asfalto. Ma non è stato sufficiente trascinare la cassaforte ben oltre il centro del paese, il Bancomat non si è aperto e i malviventi sono dovuti fuggire senza bottino. E' successo a Bellante Stazione, alla filiale della Banca dell'Adriatico, intorno alle due di notte. E' scattato l'allarme collegato con la centrale dell'arma e con il 112 per un furto in banca. La banda, almeno quattro persone, ha lavorato con una utilitaria e un furgone, dopo aver sfondato la struttura all'esterno della filiale, come nella precedente occasione, i ladri hanno agganciato con un cavo il Bancomat per poi affrontare la folle corsa. I malviventi sono riusciti a dileguarsi, ma il Bancomat è stato recuperato, sconosciuto l'importo contenuto all'interno, bisognerà attendere la verifica del direttore della filiale. Era andata invece diversamente lo scorso 20 ottobre, quando i malviventi riuscirono a rubare, con lo stesso modus operandi, circa 70.000 euro alla Tercas di San Nicolò a Tordino. Sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Alba Adriatica e quelli di Bellante.